buongiorno a tutti se è il primo video che vedete di engage 2020 benvenuti a engage 2020 e se non è il primo vi saluto sono vincenzo gentile con fondatore e amministratore di cosa oltre che sviluppatore uno degli sviluppatori principali cosa è un claris platinum partner da ormai dieci anni personalmente sono utente filemaker dal 1993 quindi andiamo per i 30 anni quasi e ho sviluppato decine e mi sto tenendo basso di applicazioni probabilmente sono centinaia e ho installato molte centinaia di filemaker server la prima versione di filemaker server che ho installato è stata la 5.5 oltre 20 anni fa e o quando è uscita adesso non ricordo l'anno esattamente ho scritto insieme al mio socio riccardo albieri e ad altri sviluppatori un paio di libri poi ho scritto su sia sul nostro blog b.cosa.cloud sia su applicando altre riviste e come al tempo macintosh magazine e girato diversi video che sono quasi tutti sul nostro sito di training cosa impari puntocom ho diversi hobby ovviamente ma non credo che vi interessino più di tanto e uno dei miei hobby è quello di tenere la mia barba curata ma la foto era improvvisata e quindi non non avevo curato nulla infatti si vedono tutti i peli e bando al a queste facezie passiamo direttamente passiamo al dunque ovvero se non avete vissuto in una grotta negli ultimi tempi negli ultimi mesi saprete che filemaker claris ha rilasciato filemaker server 19 per linux siamo già arrivati alla seconda release 1921 e quindi già c'è già c'è stato un aggiornamento in quattro mesi circa di disponibilità tre mesi eccetera e quindi diciamo cogliamo l'occasione per dire un evviva per i nuovi cicli di rilascio ravvicinati che ci consente è vero che sono meno densi di novità ma portano sul mercato migliorie con una frequenza maggiore e anche correzioni di errori quindi questo è molto molto apprezzato la documentazione di claris è piuttosto ampia sull'argomento sia su filemaker server 19 e soprattutto su community quindi vi rimando direttamente a community e all'engineering blog per molti dettagli tecnici perché abbiamo delle limitazioni di tempo per questa presentazione per questo video quindi non mi dilungherò su tante su tanti dettagli perché sono appunto nella documentazione perché usare filemaker server su linux il vantaggio di utilizzare una piattaforma open source è presto detto è molto più prestante diciamo orientativamente il doppio quindi una macchina grande la metà a prestazioni direttamente comparabili di una macchina che è grande il doppio quindi quando dico direttamente comparabili intendo millisecondi di differenza in più o in meno per singole operazioni l'altro vantaggio è che il sistema operativo appunto essendo open è configurabile quasi a piacere e quindi si possono non installare tranquillamente componenti che non ci servono e quindi questo consente di utilizzare appunto macchine più piccole per avere prestazioni maggiori e molte delle operazioni di spiegamento sono automatizzabili in maniera relativamente semplice poi lo vedremo più in là nella presentazione fra le varie versioni di filemaker server per i vari tre piattaforme linux windows e mac os ci sono c'è una sostanziale feature parity quindi sono praticamente identici sono alcune piccole differenze differenze minori di cui tener conto in particolare la versione per linux supporta o data fatta semplice o data è un protocollo per integrarsi con delle api rest in maniera standard il filemaker server per linux è la prima versione server propriamente detta di filemaker che supporta o data prima filemaker lo supportava solamente su filemaker cloud poi le data api funzionano il modo moderno di interfacciarsi e creare un sito web utilizzando filemaker come back end e non funzionano la casa web publishing in php in xml plugin funzionano ma in realtà dipende dal singolo plugin qui ovviamente parliamo di plugin server side dipende appunto dal plugin dipende se il produttore dello sviluppatore del plugin ha creato la versione per linux che funzioni server side quindi se utilizzate un plugin nella vostra soluzione e lo volete utilizzare server side verificate sul sito dello sviluppatore se è già supportato se hanno il programma di supportarlo e quando più versione linux supporta l'autenticazione esterna con le active directory federation services funzionano le ss ma ci sono alcuni vincoli quindi le ss propriamente dette quindi database supportati da direttamente da filemaker quindi mysql oracle msql server funzionano senza problemi quello che non funziona sono postgres ql e db2 perché non c'è l'adapter e questo ci rende un pochino tristi devo dirlo perché facciamo un grosso uso di postgres è supportata una singola versione di linux una singola distribuzione per essere precisi e centos 7 punti versione 7.8 in italiano lo sentirete sempre nominate come centos cioè così come si legge quindi nella nel corso della presentazione lo dirò in entrambi i modi in la sigla sta per community enterprise operating system e adesso senza fare tutta la storia e le genealogie delle distribuzioni linux in sostanza è una versione supportata dalla comunità linux funzionalmente compatibile con redact enterprise linux che a sua volta è un derivato di fedora e dicevamo versione supportata solamente questa essendo binary compatible con redact perché centos e redact sono sostanzialmente lo stesso sistema operativo potrebbe venire l'idea di provare a installarlo noi l'idea ce l'abbiamo avuta e abbiamo provato e che succede abbiamo provato a installarlo su centos otto quindi un'altra versione e su amazon linux 2 che è anch'esso binary compatible con redact e praticamente si filemaker server si installa ma non parte e quindi bisogna poi farlo partire manualmente con tutta una serie di artifici e diciamo che se volete fare un esperimento perché volete alimentare il vostro spirito hacker fatelo pure ma non è per i deboli di cuore comunque assolutamente non fatelo in produzione assolutamente non fatelo per una macchina di produzione non lo fate per una macchina di sviluppo non ci tenete dati reali perché potenzialmente si potrebbero creare danni e comunque assolutamente non è supportato quindi qualsiasi problema voi abbiate come si dice you are on your own quindi è un problema vostro quindi ora che più o meno abbiamo i mattoncini di base delle nostre informazioni di partenza questo server linux dove filemaker server linux dove lo andiamo a mettere potrei usare una macchina fisica ovviamente ma ormai non lo fa quasi più nessuno e noi non siamo più nel ventesimo secolo ma ben nel ventunesimo potrei usare visphere o qualsiasi altro virtualizzatore potrebbe essere un'opzione se già ho un'infrastruttura a disposizione ma noi siamo parziali per il cloud come facilmente si poteva immaginare dalla foto e ovviamente sono nuvole diverse ma la foto era molto bella quindi l'ho voluto usare lo stesso e inoltre visto che oltre essere claris platinum partners cosa è anche amazon web services select partner senza grosse sorprese useremo i servizi di amazon web services allora su amazon abbiamo ovviamente sempre amazon web services che userò come intercambiabili anche se in realtà non sono perché sono distinte abbiamo diverse opzioni per esempio potremmo utilizzare dei container ma per motivi di brevità non faremo una disamina di tutta la miriade di opzioni che avs mette a disposizione e ci concentreremo solamente sul caso dell'uso di uso di amazon easy to che diciamo il modo più morbido per passare in cloud ed è quello che noi utilizziamo per noi stessi e per il nostro servizio di hosting e amazon easy to che sta per elastic compiuto cloud è un servizio web che fornisce capacità di elaborazione scalabile in cloud ovviamente in buona sostanza è la parte di calcolo memoria e cpu di una virtual machine tradizionale come la potrebbe essere in un virtualizzatore questo appunto come dicevo la modalità più morbida e familiare di passare del dei servizi in cloud perché praticamente alla fine quello che voi vedete dall'esterno è un server come tutti gli altri come un server fisico o virtualizzato insomma e faremo qui l'esempio faremo il caso dell'uso di filemaker server linux quindi su centos 7.8 ma si può fare anche con windows server e noi lo facciamo regolarmente abbiamo ospitato fino fino alla disponibilità di server linux e noi abbiamo ospitato le macchine regolarmente usando server windows server appunto windows server lo dirò 100.000 volte e 2012 2016 2019 e per curiosità e per nota storica il filemaker cloud for aws cioè filemaker cloud 1.x 1.x per 15 16 17 18 era sostanzialmente un prodotto fatto nello stesso modo quindi era un amazon easy to e altri componenti allora prima di partire con la nostra configurazione che vi anticipo già che non vedremo nel dettaglio perché richiederebbe troppo tempo ed è comunque piuttosto ben documentata quindi non c'è bisogno di andare troppo nel dettaglio vediamo un po' una nostra lista della spesa di dei servizi accessori cioè di tutte le altre cose di cui abbiamo bisogno quando dobbiamo andare a configurare la prima cosa è avere un nome di dominio secondo o terzo livello questo serve a non esporre l'ip poter utilizzare più facilmente un certificato ssl che di fatto è obbligatorio quindi ci serve il certificato ssl usatelo sempre qualsiasi cosa ci sia esposta mettete un certificato di sicurezza questo perché senza certificato chiunque con un banale sniffer può leggere tutti i vostri dati in transito ci dovremmo occupare della sicurezza quindi dovremmo configurare il firewall per rendere la nostra macchina accessibile dall'esterno in sicurezza quindi aprendo rendendo disponibili solamente le porte di cui abbiamo bisogno tipicamente sono la 5003 e 5003 che è la porta che utilizzano i client filemaker sia pro che go e la 443 che è la porta dell'https quindi l'https su protocollo sicuro altre porte aperte solamente se strettamente necessario poi dovremmo provvedere ai backup remoti remoti ovviamente trattandosi di dati in un data center il concetto di remoto può variare quindi quando dico backup remoti o esterni intendo esterni alla macchina cioè la replica del backup che filemaker server fa i backup su filemaker server linux funzionano esattamente nello stesso modo delle versioni windows e mac os poi dovremmo monitorare i nostri servizi e ricevere delle notifiche di sistema per avvisi vari da parte appunto del sistema del filemaker server su linux tra l'altro questo sistema di notifiche per noi che siamo claris hosting partner è obbligatorio per esempio un esempio delle notifiche che potremmo dover ricevere è la macchina è inaccessibile quindi non risponde a un ping esterno per un tot di tempo mi avvisa che la macchina potrebbe essere giù potrebbe essere irraggiungibile eccetera vedremo che amazon web service ci mette a disposizione tutta una serie di servizi per fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno allora quando prepariamo la nostra easy to a cosa dobbiamo stare attenti cosa dobbiamo avere pronto a disposizione la prima cosa e questo per esperienza vi dico che è facile scordarselo è creare il key per il key per la chiave di sicurezza che ci consente di accedere appunto in sicurezza alla macchina per la sua amministrazione non parliamo della console di file maker server proprio alla macchina fisica sottostante poi dobbiamo andarci a creare un elastic ip che diciamo per semplificare è un ip fisso dedicato alla macchina questo serve a gestire in maniera più semplice e agevole il dns perché in questo modo viene puntato a quell'ip fisso e questo perché ogni volta che io riavvio la easy to l'ip della macchina potrebbe variare anzi di solito varia poi nel momento in cui andiamo a creare la nostra macchina selezioneremo una macchina con processore intel quindi architettura x86 perché file maker server per linux ancora non supporta arm spero lo supporti presto perché le macchine arm sono un bel po più prestanti e in generale consigliamo di utile amazon mette a disposizione una quantità di famiglie diverse di macchine virtuali che sono ottimizzate per questo per quello va da macchine che sono ottimizzate per la memoria per l'accesso al disco ci sono macchine che sono composte solo da gpu cioè da da schede grafiche sostanzialmente per fare calcoli rendering eccetera nel nostro caso mi consiglio di tenerci sul sul semplice e utilizzare una famiglia t3 che sono macchine di uso generale che vanno benissimo e sono perfette nel momento in cui seleziono una t3 intel andrò a cercarmi una e mai cioè l'amazon machine image quindi diciamo la base del sistema ufficiale di cento 7.8 ci sono del nella selezione delle varie macchine si può ricercare ci sono delle macchine messe a disposizione direttamente dallo sviluppatore in questo caso la community di centos per essere sicuri che sia una macchina pulita ben configurata e sicura al massimo fatta dal suo produttore e ci sono varie opzioni scegliete selezionare sempre quella minima cioè con la versione minima possibile del sistema operativo così come consiglia claris nella documentazione di filemaker server e non aggiungete altro le aggiunte che farete saranno solamente le librerie che richiede filemaker server quindi non installate nulla non installate componenti aggiuntivi non installate interfaccia grafica sul linux si lavora da terminale poi storage quindi praticamente il disco selezionate ebs che sta per elastic block storage e non è necessario strettamente necessario creare più partizioni millina di massima complica la vita e basta e nonostante sia possibile avviare centos e installarci sopra filemaker server con volumi molto molto piccoli parliamo di 20 30 40 giga non lesinate più grande il disco migliori saranno le prestazioni direi con come base di partenza 100 150 anche 200 giga filemaker server questa diciamo la parte più semplice anche la passaggio della presentazione più breve e rapido e è sufficiente seguire alla lettera le istruzioni di claris sono molto ben fatte molto chiare basta che non prendete iniziative l'unico avviso e comunque c'è scritto anche nella documentazione è quello che a fine installazione dovrete riavviare la macchina oppure avviare apaci a mano comunque è la procedura la modalità è spiegata sull'help altra cosa di cui vi dovete ricordare di avere a portata di mano i file del certificato ssl perché sono richiesti durante l'installazione di filemaker server all'avvio della console per l'esattezza esattamente come funziona su windows e mac os non ci dilungheremo anzi non lo faremo neanche vedere la configurazione di filemaker server all'interno della console appunto di filemaker server perché è esattamente identica come avete visto dallo screenshot di qualche slide fa alle versioni windows e mac os quindi se avete visto e configurato un filemaker server li avete visti tutti perché appunto sono assolutamente identici allora riprendiamo la slide di prima con la lista della spesa degli accessori e vediamo i servizi che amazon web services ci mette a disposizione per dispiegare il nostro server allora dominio andiamo su root 53 che è il gestore di dns e configuriamo il nostro dominio associandolo all'elastic ip quello che abbiamo creato prima di cominciare l'installazione possiamo anche utilizzare un dominio ospitato da un altro provider non siamo vincolati a essere avere tutto quanto su avs ovviamente è più semplice e meglio gestibile e soprattutto si potrà fare facilmente una cosa che vi spiegherò più tardi tra pochi minuti e quindi siamo su internet quindi i servizi internet funzionano anche di spiegandoli da servizi da provider differenti poi andremo a configurare i security groups oppure ne associamo uno già esistente in buona sostanza e semplificando veramente all'estremo la cosa in realtà è molto più complessa e strutturata e i security groups sono l'interfaccia che vedete del firewall che protegge la vostra macchina poi per lo storage andremo a creare uno più bucket pensateli come una top level directory su s3 che è uno dei servizi di storage di avs il più adatto tra i vari servizi il più adatto a contene i nostri backup remoti eventualmente anche altri dati per esempio noi potremmo decidere di esternalizzare le immagini i video o degli audio altri file di grandi dimensioni che utilizziamo nella nostra applicazione file maker e ospitarli su s3 questo ha tutta una serie di vantaggi e che non staremo ad approfondire in questa sede poi per fare la replica dei backup ora che abbiamo lo sto sappiamo dove metterli quindi abbiamo lo storage per fare la replica esistono vari sistemi sia chiamiamoli artigianali cioè degli script di shell che noi possiamo andare a creare o possiamo utilizzare delle api oppure possiamo utilizzare vari prodotti commerciali ce ne sono una quantità adesso primo che mi viene in mente è cloudberry che non si chiama più cloudberry ha cambiato nome si chiama 360 qualcosa e ora mi sfugge su due piedi il nome anche solo la disamina sommaria di questi strumenti ci porterebbe veramente troppo lontano è sufficiente una rapida ricerca su google e trovate tutto quello che volete e poi e noi utilizziamo degli script fatti da noi per noi ecco poi andremo a configurare la nostra le nostre console matrix su cloud watch e salto i dettagli perché li approfondiremo nella slide successiva e poi andiamo ad attivare le notifiche con su sns che sta per simple notification service e impostiamo appunto le notifiche che dobbiamo andare a ricevere cloud watch allora su qui su cloud watch vorrei fare una piccola digressione perché si possono fare cose realmente molto interessanti sostanzialmente cloud watch è la console in cui io vado a visualizzare le prestazioni e lo stato di salute della mia infrastruttura di default quindi senza configurare nulla una volta che io ho creato delle easy to è possibile monitorare traffico di rete il carico della cpu e gli accessi al disco poi si possono anche aggiungere altri indicatori soprattutto la cosa molto importante e per noi molto utile è che possiamo andare a installare sul file maker server un agent che ci permette di monitorare le metriche interne della easy to e quindi per esempio l'utilizzo della memoria lo swap gli utenti connessi poi con un po di lavorio praticamente qualsiasi metrica che sia accessibile tramite le admin api di file maker server possiamo visualizzare in cloud watch ma c'è un'altra cosa che è ancora più interessante forse questo stesso agent può monitorare i log di file maker server quindi è possibile visualizzare direttamente nella console di cloud watch le informazioni che avrete che altrimenti dovremmo visualizzare scaricando i log di file maker server e andandoci a analizzare in uno strumento esterno altra cosa molto importante è che questi log avvengono l'analisi di questi log avviene in tempo reale quindi man mano che succedono le cose viene aggiornato il file di log cloud watch questa cosa si riflette dentro la nostra console di cloud watch altra cosa ancora più bella è che cloud watch può lanciare far partire un allarme quando si verifica un evento particolare a questi allarmi si collegano delle azioni l'azione può essere una notifica o anche altro quindi per esempio se una macchina è sovraccarica potrebbe avvisarci che la macchina ha raggiunto non so l'ottanta per cento di carico di cpu 90 di memoria o quello che è potrebbe appunto solamente notificarlo però l'azione potrebbe essere la notifichi e ingrandisce automaticamente la macchina quindi me la scala in un livello superiore della famiglia della stessa famiglia quindi di fa con un banale riavvio io ho ingrandito la macchina oppure per esempio se la macchina non risponde per tot minuti la riavvia quindi se ho un downtime automaticamente me la ritira su e non mi accorgo di nulla se non quando mi ha avvisato che ha già risolto il problema voi direte sì ok tutte queste cose tutto molto bello ma che ogni volta che devo configurare un server devo rifare tutte queste cose da capo che sicuramente sono così dire time consuming no in realtà no perché amazon web service ci mette a disposizione un altro servizio che si chiama cloud formation allora cos'è cloud formation cloud formation è definito come infrastructure as a service cioè un modo semplice e agevole per modellare del una raccolta di risorse sia di amazon che di terze parti per fare nel provisioning in modo rapido e coerente questa parte della coerenza è molto importante perché siamo sicuri che ciò che andiamo a creare in maniera ripetitiva sia fatta sempre allo stesso modo e non ci siano errori di fatto tratta l'infrastruttura come codice in maniera programmatica poi nella pratica effettivamente è un file json o yaml che descrive l'infrastruttura che esito uso con che opzioni quindi la famiglia elastic ip le dimensioni consentite e tutto quanto come deve essere configurato il dns come si comporta cloud watch le notifiche che sono collegate a alle varie azioni bucket s3 tutto ciò che ci può essere utile nella creazione come vedete qui dalla slide questo è uno screenshot della creazione di un nostro server di test che nel frattempo abbiamo eliminato quindi è irraggiungibile ovviamente non esiste più dove fa vedere cosa è andato a creare ha creato la macchina gli elastic ip i vari allarmi i bucket s3 il record del dns e tutto quanto questo è un estratto il bello di cloud watch è che funziona non solo in creazione e anche in aggiornamento ovviamente ma anche in distruzione quindi io non solo posso creare una serie di risorse collegate tutte insieme velocemente senza errori velocemente quantifico una volta che si è creato il il file il json noi siamo json il json di di cloud watch poi per la creazione di una macchina intera con tutte le configurazioni parliamo di minuti anche l'eliminazione quindi io posso inserire nel cloud formation le regole di eliminazione quindi io posso decidere elimina tutto quanto tranne lo storage esterno per esempio così io ho mantenuto i miei backup esterni oltre la eliminazione fisica della macchina e con questo abbiamo terminato la nostra rapida disamina delle possibilità e opzioni che amazon web services ci fornisce quando vogliamo andare a di spiegare il nostro nuovo filemaker server per linux per qualsiasi domanda approfondimento potete contattarci quando volete sul sito c'è un form di contatto grazie per l'attenzione speriamo di vederci presto di persona stay safe Grazie a tutti.